Allora, signori, ci sta un nostro amico, un nostro giovane, che avrà intorno ai 24, 25, 26 anni. Questo giovanotto è stato colto da un tumore raro, rarissimo, 18 casi in tutta Europa. Molti medici, medici su medici, hanno diagnosticato, hanno accertato 4 mesi di vita e non di più. Il padre, disperato da questa situazione, sapevano di tutto quello che si poteva vendere, le ricasse proprietà, la lavanderia, scanna, la sottolietta. Però è riuscito a sconfiggere questo tumore maligno. I paciaggi pensano troppo tanto anni di vita, perché si chiama il tumore maligno? O maligno chi è? Chi lo curano, tu lo riavano, no? E di conseguenza probabilmente è lui che manda queste cose. Però ancora una volta il bene ha vinto sul male, perché il suo aglio è un tumore, non lo dè neanche uno. Il maligno è stato sconfitto da questa grande energia del padre, della famiglia e dell'aiuto di Dio. Però sorte dell'ironia. Questo ragazzo in seguito a queste cure purtroppo ha perso la vista del più del 90%. Però c'è ancora un però. La vista del ragazzo la può acquistare totalmente. E' un giovane che domani potrebbe addirittura leggere il giornale e vedere la televisione, come sta facendo in questo momento, che la sta sentendo e non la sta avendo. Il problema qual è? I medicinali. I medicinali costano un'infinità di soldi. Un'infinità di soldi. Ecco perché noi simbolicamente abbiamo fatto il nostro canestro. O canestro di, come ci chiamiamo noi, semplicemente noi con l'appoggio della nostra bella emittente, che è Campania e TV. In questo canestro noi simbolicamente ci stiamo mettendo un euro, 5, 10, secondo le forze economiche. Tutto quanto. Così faranno anche i nostri amici, così lo ripeteremo ancora. E manderemo quanto più è possibile, perché questo ragazzo riesca ad avere queste cure, per la quale cura riuscirà poi a vedere. Il numero di conto corrente, il numero di conto corrente, momentaneamente ve lo dice Marzia, ci sta in questo momento, già lo possono segnare. Questo è il numero di conto corrente. Cioè il conto, scusa, il conto IBAN. Non lo sa, ci che ne capisce. Ma è una carta ricaricabile, può ricaricare tranquillamente. Il tutto è controllato chiaramente dalla finanza. Non so, infatti qualcuno già del gruppo dice, ciò scrivete che scrivete che ritrova a morire, e poi non hanno passato mai nessuno. Devono andare. Con questo piccolo sforzo che noi tutti quanti insieme possiamo fare, possiamo ridare la vista a un ragazzo che rischia di non vedere mai più. Cosa mattina facciamo il capriolo, per fare una bolletta la luce, l'acqua, il gas, il telefono, la posizione di gas. Tutti quanti insieme non possiamo permettere che se è studo contatore la luce e il suo agione. Giusto. Dateci una mano. Signor Montone, Antonio e figli, in bocca al lupo. Noi siamo con te. Grazie. Grazie.